Ma ci pensate se dopo tutto questo casino la nazionale italiana dovesse veramente giocare i mondiali di calcio? Ciao a tutti, io sono Renico, benvenuti su questo canale YouTube e oggi vi devo parlare di una roba clamorosa, ovvero pare che secondo qualche teoria l'Italia potrebbe essere ripescata per i mondiali di Qatar 2022. Ma andiamo con ordine. Perché dovrebbe giocare i mondiali? Dovrebbe giocare per una questione che in realtà è particolarmente importante e riguarda la nazionale dell'Iran. Sta sostanzialmente chiedendo a gran voce l'esclusione dell'Iran dai mondiali di Qatar 2022. La motivazione, cito testuale, è questa. La FIFA non dovrebbe consentire la partecipazione di un paese che perseguita attivamente le sue donne, atleti e bambini, solo per il fatto che esercitano i loro diritti umani più elementari. Quindi il motivo principale pare essere quello dei diritti che vengono negati alle donne, le quali ricordiamo che nel paese iraniano è costantemente negato addirittura l'accesso agli stadi in tutto il paese. E oltre a questo c'è sicuramente anche la repressione che il popolo di Teheran sta subendo dopo la morte di Masha Amini. Per quanto riguarda tutta la questione politica vi consiglio un paio di canali. Su Instagram potete seguire assolutamente PenShare, i miei amici che mi hanno contribuito a far nascere questo progetto. E ovviamente su Twitch mio fratello Gioba che sta registrando qualcosa anche qua su YouTube. Vi lascio tutti i link comunque in descrizione. Andatelo a seguire. Quindi, cito di nuovo testalmente quello che viene detto, se le donne non sono ammesse negli stadi in tutto il paese e la Federcalcio iraniana sta semplicemente seguendo e applicando le linee guida del governo, non possono essere viste come un'organizzazione indipendente e libera da qualsiasi tipo di forma o di influenza. Quindi, clamoroso, da qui la FIFA potrebbe decidere di escludere l'Iran d'Akater 2022. E ragazzi, io sto girando questo video il 25 d'ottobre. Iniziano il 14 di novembre. Manca neanche un mese. Eh sì, ma l'Italia? Fermi. Perché adesso che abbiamo la certezza, o comunque la possibilità, che l'Iran non partecipe a questi mondiali, arriva l'Italia. E il primo che sostanzialmente sfrutta l'occasione di dire riammettiamo l'Italia mondiali è Paolo Zampolli, membro del Kennedy Center che ha scritto una lettera al presidente della FIFA nel quale sostiene una cosa che non è effettivamente del tutto sbagliata, ovvero che tra le escluse l'Italia sarebbe la prima. Ed è vero, ed è vero. Il titolo europeo ha sicuramente influito e se facciamo i conti delle squadre escluse l'Italia è la prima nel ranking. Quindi se dobbiamo riprescare qualcuno, forse è veramente la compagine di Mancini, il che avrebbe assolutamente del clamoroso. Ma voi ce la pensate? Dopo tutte le polemiche, dopo tutte le questioni, dopo tutti i discorsi fatti, alla fine la nazionale di Mancini scende in campo. E Girono è neanche banale, tra l'altro, sarebbe quello con Inghilterra, Stati Uniti e Galles. Ora però vi smonto i sogni. Io trovo che quella del ripescaggio dell'Italia sia la posizione meno probabile. C'è più di un motivo. Beh, allora, innanzitutto il girone, che secondo il regolamento avrebbe tre europee e questa cosa non si può fare. Ma è il meno. Il ripescaggio dell'Italia, ragazzi, comporterebbe troppi problemi. Il più semplice da capire è sicuramente quello degli accordi commerciali già presi. Pensiamo semplicemente ai diritti TV, ai bandi che sono stati fatti per i diritti TV e alle varie società che proprio perché sapevano che la nazionale e i mondiali non c'erano, non hanno partecipato attivamente. Agli sponsor, a tutte quelle realtà in piccolo che anche nella nostra penisola non si sono mosse perché sapevano, perché appunto sapevano dell'esclusione della nazionale. E poi, in queste situazioni, c'è una cosa che bisogna sempre ricordarsi, ovvero il fattore precedenti. Dal punto di vista legale, un precedente è qualcosa che ti dà una leva per poter ripetere in futuro lo stesso tipo di soluzione. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che qualsiasi mondiale, da qua in avanti, potrebbe, a meno di un mese dall'inizio, escludere un nazionale e reincluderle un'altra. Sempre con il principio della prima esclusa. E terzo, ma non ultimo fattore, il metro con cui tu decidi di far entrare una squadra. Noi abbiamo preso l'Italia perché prima nel ranking, sì, ma perché siamo interessati ad avere l'Italia al mondiale? Perché dalla compagine asiatica in realtà ti direbbero che beh, la squadra che l'Iran ha battuto durante le qualificazioni mondiali che per un gioco di incastri, vi metto qualche link che ve lo spiega, dovrebbe essere il Peru. Oppure, un'altra soluzione, e ve le sto dicendo in grado di probabilità, secondo me, è quella dell'esclusione della squadra con i famosi 3-0 a tavolino. Voi dovete pensare che il mondiale non è una competizione dove la fase a eliminazione diretta dipende dal concetto di miglior prima, peggior seconda. Gli incroci sono già decisi. Quindi sostanzialmente è semplicemente un po' più facile arrivare ai secondi nel girone con l'Inghilterra, Galles e Stati Uniti. Oppure, la soluzione che secondo me è più probabile è che magari la federazione verrà multata, Megari sarà invitata caldamente a fare qualche gesto simbolico e alla fine, a novembre, l'Iran e il calcio d'inizio lo farà e la compagine sarà compresa all'interno del mondiale. Anche se, anche se, occhio, perché questa soluzione potrebbe non essere del tutto possibile in quanto, ultime notizie che sto cercando di approfondire, poi magari con l'evoluzione delle notizie farò altri video, anche perché con i mondiali che stanno per iniziare i video su questo argomento aumenteranno, però pare che i giocatori della nazionale iraniana stiano sostanzialmente ragionando di un sabotaggio interno della propria compagine ai propri mondiali di Qatar. Una storia clamorosa comunque. Questi mondiali si erano già presentati come interessanti, sono i primi mondiali invernali, sono quelli che interrompono tutti i campionati, ci sono un sacco di discussioni a livello di diritti umani sull'organizzazione di questi mondiali e adesso questa complicazione che vedremo come andrà a finire. Io come al solito sono super interessato alla vostra. Nei commenti vi invito ovviamente a seguirvi su tutti i social e a venire nel canale Telegram. Link in descrizione, è un bel posto, nasce quello che ho fatto nel tempo su Twitch, i ragazzi della community sono tutti super accoglienti, ragazzi e ragazze, si parla dell'attualità sportiva, qualsiasi sport voi seguiate, è bello nel weekend parlarne insieme. Al prossimo video, ciao!